a capanna ghezzi in testa abbiamo oggetto di sesso muscolare sta avvicinando marta al monte golgota portando la sua croce di spalla ecco che da una rotata a mario nei pressi di monte argentella ed eccola come sbreccia sulla sua trek con Fox for 46 trova il tappo purtroppo ed eccola ed eccola sulla destra grazie a tutti 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 grazie a tutti